è arrivato un altro pacco mi hanno detto io c'ho già un pacco permanente che si chiama Luciano Fumia, vediamo qui il cos'è maniglia, maniglia ma che c'è che dà c'è la guarda Fumia, ok? meravigliosamente, sei un grande, questa è niente rispetto a quello che tu devi conquistare perché la sicilia deve essere tua, questa qua è una bellissima piscicletta che ti sto mangiando con grande piacere ma non c'è la pena, visto quella la sicilia non ce l'ha no no, questa è per quanto assistita, assolutamente, poi abbiamo noi la batteria che tu la carichi tutte le sere e con questa puoi andare a fare i blitz in maniera velocissima ragazzi, questo posso passare pure nel coso, qui c'è un'ordinanza che dieta il passaggio con le biciclette pure, ora dobbiamo rivedere, se ne posso passare, un po' a pari, c'è un attimo, però funzionavamo la stessa, la stessa per sera, la nostra sera, questa è grazie 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 a te ora posso eliminare luciano direttamente perché posso venire a taormina da fiumedinissi luciano insostituibile con questa meravigliosa luciano insostituibile ora la proviamo guardate fiumedinissi taormina e la macchina bye bye